Beni per 40 milioni di euro sono stati sottoposti a confisca definitiva dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro a tre imprenditori, Antonio Lobello e i figli Giuseppe e Daniele, uno dei quali, Giuseppe, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. La confisca è stata disposta dalla procura generale di Catanzaro che ha dato esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello, divenuta irrevocabile, pronunciata nei confronti dei tre, condannati tutti per intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Gli imprenditori erano stati coinvolti nelle indagini anche di carattere patrimoniale svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, gruppo Investigazione e Criminalità Organizzata di Catanzaro coordinate dalla DDA, che nel marzo 2021 avevano portato all'operazione Coccodrillo con l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di dieci persone ed un sequestro preventivo di quote societarie relativi compendi azientali e cinque società. Nel corso dell'indagine erano stati ricostruiti, secondo l'accusa, gli stretti legami con le famiglie di Indrangheta, Rena d'Isola, Caporizzuto e Grande Aracri di Cutro, che nel tempo avevano consentito alle società del gruppo Lobello di assumere una posizione di assoluto rilevo nelle forniture di calcestruzzo e nell'assunzione di importanti appalti pubblici nel settore edile e al tempo stesso di essere escluse da pretese estorsive di matrice mafiosa.